È una frase cara al Papa, dopo una notte di tormenti l'innominato si domanda cosa fa tutta questa gente che corre in paese con le campane a festa e poi scoprirà solo dopo che è per incontrare il cardinale. È un momento in cui prevale molto lo scetticismo, sia a livello locale sia a livello geopolitico eppure ci sono ancora delle realtà vive che trovano qualcosa di allegro, qualcosa da dire, qualcosa a cui attaccarsi e qualcosa che attrae anche altre persone. Quindi ci domandiamo che cosa hanno da dire queste persone. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, che da sempre è in movimento per promuovere ciò che dal basso costruisce, dialogherà con due esponenti di realtà sociali cittadine. I due testimoni sono Don Fausto Brioni, che penso che abbia poco bisogno di presentazioni perché la sua realtà parrocchiale si è poi espansa al sociale, si è espansa allo sportivo, coinvolge un numero infinito di ragazzi, di adulti nelle sue attività ed è proprio una comunità. Un altro testimone è Tommaso Nava di Porto Franco, che è un'associazione che dà una grande mano a chi ha bisogno nel sostegno allo studio, dedicando tempo, energie, tutto gratuitamente, così come fa Don Fausto, proprio per servire il bene comune. A noi interessa portare a tutti, offrire a tutti queste testimonianze di gratuità, di aggregazioni spontanee che non hanno secondi fini, che non hanno niente a desiderare il bene per tutti. Sullo sfondo non possono non esserci le elezioni amministrative, evidentemente. L'invito è aperto a tutti. Assolutamente prende spunto anche da quello che sta succedendo a livello locale l'iniziativa, perché si possono vivere in due modi. O si vive con le logiche di schieramento, di potere, di calcolo, oppure il contributo, soprattutto in un momento così decisivo per la nostra città, si può intravedere un'occasione privilegiata per portare alla luce quello che interessa veramente alle persone, che non è banalmente un piano urbano, che è importantissimo per carità, ma al fondo le persone hanno delle domande, hanno bisogno di non essere da sole, hanno bisogno che non prevalga lo scetticismo, hanno bisogno di una comunità, hanno bisogno di legami. E questa è la prima cosa. E anche in questa situazione, dove sembra prevalere tutta un'altra serie di logiche, vogliamo far vedere che invece prevale ancora questa cosa qua.